Ciao a tutti e a tutti, bentornati in un nuovo video e questo sarà l'update del what's in my bag, what's in my purse, what's in my... non so come vogliate chiamarlo, cosa c'è nella mia borsa, ecco, italianizziamolo subito. Vi avevo già fatto questa tipologia di video e vi era piaciuta molto, continuate a chiedermi sotto gli ultimi video di farvi un update e comunque è passato, saranno almeno due anni e quindi insomma ho detto ma sì, ma dai ma su. E se non avete visto il primo ve lo linko nella scheda informazione e direi di iniziare subito. Allora, innanzitutto io ho parecchie borse, insomma parecchie scarpe, parecchi accessori, ormai lo saprete, e anche appunto le borse. Quindi non sempre utilizzo la stessa ma molte volte mi ritrovo a usare questa qui che vi faccio vedere adesso, che è quella un po' più versatile perché insomma semplicemente è nera-argento, io solitamente quando mi vesto mi vesto nera con magari collana-orecchini-argentati, quindi naturalmente ci sta meglio. Questa borsa mi è stata regalata al compleanno, quindi non so dirvi bene il prezzo, però so dirvi il negozio. Ed è un negozio che si trova ad Ostia, insomma per chi è di Roma conosce. E questo negozio si chiama Free, proprio scritto F-R-E-E, Free. E la borsa in questione è questa qui, vi faccio vedere, è, vedete, completamente nera, tipo non ha effetto pelle, forse è eco-pelle, boh, non lo so, comunque fatta così. E ha queste cinghie, in più ha i manici classici, ed ha anche la tracolla, quindi è stra comoda. E poi una delle qualità che ricerco in una borsa, soprattutto se la devo usare spesso, per andare in metro, cose così, è che ha la cerniera, come questa qui. Perché è molto più comoda, insomma, non state con mille pensieri, mille cose, oddio mi perdo questo, oddio mi perdo quest'altro, che è già tanto. Questa borsa all'interno è divisa in due scomparti, io butto le cose un po' a caso, devo essere sincera. E poi ha le taschine laterali, quindi iniziamo subito dalle taschine laterali. Da una parte abbiamo il burro cacao, perché io non posso vivere senza il burro cacao, praticamente in ogni borsa ho un burro cacao. E non sto scherzando, perché ho sempre paura di scordarlo, quindi non devo evitare, io già ce lo buccio dentro. Questo in particolare è dell'Ives Rocher, ed è al noce di macadamia, è troppo buono, e insomma, questo qua. E poi ho la mia scatoletta delle pasticchette, sapete che mi sono operata e bla 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 bla, se non avete seguito il discorso è troppo lungo da fare. E qui, insomma, devo prendere delle vitamine e delle cose e me le metto lì e, insomma, quando ho tempo, quando mi fermo, ecco, me le prendo. Poi la tasca dall'altro lato, invece, ho, solitamente ci tengo delle forcine, vediamo se ci stanno sì, ok. Perché io ho sempre la fissa dei capellini che escono fuori dalla coda, dalle cose, quindi ho mille, mille forcine. Anzi, questa volta sono anche pochine. Poi ho una penna, non credo di essere l'unica persona che porta sempre una penna in borsa, ma ci sono alcune situazioni, magari anche, che ne so, in giro. Qualcuno ti chiede una penna, ma sapete quante volte mi è successo che io fossi stata l'unica persona ad avere la penna in borsa? Trucchetto geniale. Poi ho l'accendino, questo qua, un clipper semplicissimo, naturalmente fucsia. Questo ha di a sigaretta, naturalmente fucsia, guardate che carina. E sì, ragazze, per chi fosse rimasto sconvolto da questa cosa, io fumo, fumo, ma non tanto. Devo essere onesta e sincera, non ve lo sto dicendo perché, oddio, ho paura che mi diciate qualcosa, ma perché è vero. È vero, mi avevo già parlato un po' di tempo fa, però ecco, non tutti lo sanno. Infatti, quando magari nel live su Instagram capita di vedermi con la sigaretta, tutti, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, calmiamoci, insomma, una cosa così. Io ho deciso di dirvelo, tanti youtuber non ve lo dicono, quindi stiamo bene così. Allora, prima che me l'ho cominciato a chiedere, perché capita sempre, ragazzi, io ho 20 anni, quindi logicamente i miei genitori, la mia famiglia lo sanno. Cioè, è una domanda ricorrentissima. Ma i tuoi lo sanno? No, cioè, ragazzi, dai, su, non è che gli sto dicendo ho ammazzato qualcuno, eh, quindi naturalmente ci sono passati sopra. Comunque, a parte il discorso sigarette, che mo' vabbè, l'abbiamo preso, ok. Allora, vi faccio vedere, ho sempre la boccetta d'acqua, che naturalmente io giro il video e la boccetta d'acqua è vuota. Comunque sappiate che io non esco mai di casa senza avere l'acqua in borsa. Non mi piace comprarla in giro, perché costa svariati euro in più di quella che potresti farti così a casa, riempire la boccettina e basta. Quindi, perché non risparmiare su queste cavolate? E io la porto sempre, 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 sempre. Poi, ho la pepantenol. Io ne ho due di pepantenol, una che tengo in borsa, una che tengo a casa, perché, appunto, magari a volte capita che, col fatto che, sapete, mi faccio un tatuaggio così a rotta di collo, a volte esco di casa, mi sono sconata di mettere la crema, che faccio? Oddio, 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 oddio. Ce l'ho in borsa, così faccio prima. Poi ho le chiavi di casa, semplicemente, in realtà, oddio, semplicemente, sono più grosse queste che la borsa. E infatti ho questo portachiavi col panda, che è troppo carino, questo qui delle pandorine, che è tipo un cuore con una frase, questo dei 1D, questo me l'ha regalata una di voi a un incontro, insomma, e poi le chiavi. Poi mi porto sempre questa pochettina. Io sono fissata con le pochettine, ma purtroppo non riesco mai a trovarne di piccole. E quindi ho trovato questa da Primark, da Adarese. L'ho presa e all'interno ci ho messo tutte le medicine che possono servirmi quando sono fuori o vado a dormire a casa di un'amica. Io, dovete sapere, soffro molto spesso di emicrania, quindi solitamente dietro ho quasi sempre il Moment, o il Busco Fanact, insomma, Taglipirina, quella orosolubile, vediamo se ce l'ho. Eccola qua. E quindi, insomma, porto sempre un po' di medicine, ecco, anche l'intero germine, insomma, cavolate così. Poi ho questo che in realtà è una new entry, però mi capita spesso di portarlo perché sono una selfie addicted, quindi ci sta tutto. Come vedete, è della Benefit, mi è stato inviato in uno degli ultimi pacchetti. Ed è una ring light per i selfie, vedete? In realtà ci sta la luce, ma ecco, così, vedete? Sono tre spinte diverse, tre pulsantini, e a seconda, insomma, di quanto volete la luce, ed è troppo carina, vedete? È fatta a pinza, la pinzate sul telefono, cioè, io adorerò per sempre Benefit per questa cosa. Poi ho questa pochette, che in realtà adesso avevo... l'ho cambiata da poco e ho messo questa grande, ma prima ne avevo un'altra piccola di Victoria's Secret, solo che era diventata troppo piccola. Comunque qui dentro ci metto tutte le cose per quanto riguarda il make-up, che magari devo ritoccare o cose. E infatti all'interno ho un po' tutto quello che utilizzo maggiormente, e in più metto quasi sempre, se esco con una tinta o il rossetto, quello che ho su il giorno stesso, me lo metto in borsa, così poi posso ritoccarlo se c'è necessità, eccetera. Però cose basiche che non mancano mai sono un pennello di quelli retraibili che adesso devo lavare, la cipria, che questa è proprio must have, mascara, illuminante, piegaciglia. E poi ho sempre una matita per sopracciglia, non mi porto il gel dietro perché insomma non è proprio pratico, invece la matita attacca stappi e disegni. Quindi questi sostanzialmente sono i trucchi che mi porto, poi variano. In questo periodo non so perché è più pesante del solito. Poi ho questa mini spazzolina, quando esco specialmente con i capelli slegati, questa qui è una toccasana proprio. L'ho presa sempre da Primark, la ho pagato tipo 1,50 euro, una cavolata, ed è piccolina, vedete? Tascabile. Poi ho anche uno specchiettino, questo qui è super trash di Hello Kitty, zebrato, nero e fucsia come andava un tempo. Poi mi porto quasi sempre un campioncino di profumo, in questo caso ho questo qui di moschino che si chiama Glamour, che è davvero troppo puccioso, cioè guardate, è tipo una mini bottiglietta, insomma l'adoro. Poi, visto che come vi ho detto prima, prendo molto spesso i mezzi, eccetera, 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 non si può non viaggiare senza loro, le cuffiette. Raramente, e dico raramente, me le sono scordate a casa quando sono uscita, ma sono stati i giorni più brutti della mia vita, perché, cioè, non ha senso prendere i mezzi e non avere le cuffiette, cioè, è davvero una bruttissima sensazione. Quindi, praticamente ne ho comprato un paio di scorta, una le tengo lì sul computer che mi servono quando faccio l'editing, eccetera, eccetera, e un paio ce l'ho in borsa. Sì, io sono una persona abbastanza efficiente, cioè, io miro molto alla praticità più che ad altro, e quindi, insomma, ne ho comprato due. E poi, una delle ultime cose, sì, è il portafogli. Questo portafogli me lo richiedete sempre dove l'ho preso. Se avete visto il video dei saldi dell'anno scorso, sì, dell'anno scorso, l'ho preso, appunto, con i saldi da Michael Kors. Non mi piaceva quello classico con la scrittina qui, Michael Kors, e quindi ho preso questo qui, che è un po' più elegante. Poi di questo color cipria, quindi anche se magari metto un colore di borsa strano, comunque è sempre nude. E sappiamo che il nude sta bene su tutto. Vabbè, insomma, reparto soldini. Io sono fissata con i bigliettini da visita, quindi ne ho tipo 8.000. Poi sono una persona fissata anche con i biglietti del cinema, quindi tengo anche i biglietti del cinema. Poi ho la tessera della metro, che tra l'altro tra un po' scade, quindi usiamola. E poi qui c'è la zip con il reparto moneta, e qui tengo le carte, insomma, di credito e tessere varie sanitarie e quelle cose lì. E poi qui dietro il documento d'identità, yeah! Quindi questo era tutto per i what's in my bag. Come vedete è un what's in my bag abbastanza basico, ecco, non tengo cose particolarmente strane o alternative. Ah, una cosa che mi sono dimenticata è la pochettina per gli assorbenti qui. Noi donne ci capiremo. Che però io praticamente metto all'occorrenza nel periodo, perché portarmela sempre dietro, insomma, non è proprio efficiente. E a volte, se so che devo stare fuori casa tutta una giornata intera, mi porto dietro il kit, tipo, dello spazzolino da denti da viaggio, che ha sia il dentifricio mini che lo spazzolino. Così all'occorrenza, anche lì, tic tic tic, vai in bagno un attimo e sei fresca e pulita. E credo questo sia tutto, se non mi sono scordata altre cose. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Io vi mando un bacione immenso e noi ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto! Ciao ciao ciao!